Una risposta lampo, neanche il tempo di vedere pubblicato l'annuncio di Forza Italia per la conferenza sui fondi destinati alle province che recriminava il blocco da parte del nuovo governatore che Luciano D'Alfonso ha organizzato una controconferenza attingendo agli atti presentati da Forza Italia e argomentando punto per punto ogni accusa mossa. I fondi in questione, quelli che coinvolgono anche il piano antiallagamento per Pescara, sono fondi ex pain, per la precisione 16 milioni di euro. A Pescara erano destinati ben 2 milioni e 800 mila euro. L'8 luglio arriva la delibera di giunta che revoca l'emanazione dei fondi. A spiegare l'intricata questione ci pensa Camillo D'Alessandro che cartella mano rende pubblica una comunicazione recapitata al presidente della regione nella quale si faceva presente che la delibera sui fondi ex pain era da ritenersi illegittima, impossibile mandarla avanti. Il motivo? Una procedura amministrativa. Mancava della programmazione e cioè uno dei requisiti indispensabili per il Cipe. Si tratta di una delibera illegittima e a dirlo purtroppo non siamo stati noi ma è stato il direttore della struttura che ha comunicato a D'Alfonso che in autotutela, ciò significa da un punto di vista giuridico che per evitare problemi di annullità e di annullamento degli atti successivi della regione bisognava procedere a revocare. Perché? Perché questi fondi valgono sul Cipe e lì ci sono delle regole. La prima regola fondamentale affinché si possa distribuire questi soldi è la programmazione. Cioè l'ente prima deve fare la programmazione, individuare le priorità e poi può procedere all'attribuzione delle risorse. Questo non è stato fatto, è stato fatto prima della campagna elettorale, sono stati distribuiti a pioggia i fondi anche per opere importanti, non solo per opere diciamo meno importanti, però purtroppo soggetti terzi interessati potrebbero impugnare gli atti e far decadere tutti gli atti successivi a quelle deliberazioni. Una rassicurazione arriva poi dopo la spiegazione. I fondi ci sono, sono disponibili e verranno erogati dopo aver riprogrammato le emergenze dei diversi comuni delle quattro province. 30 giorni a partire da quell'8 luglio. L'Abruzzo, spiega il sottosegretario alla presidenza, da oggi si muoverà solo su programmazione, senza promettere fondi a pioggia e senza creare dissesti di bilancio. Adesso abbiamo fatto partire la programmazione. Il comune, mi risulta che il comune di Pescara, per esempio uno di questi che ha inviato alla regione le proprie priorità, per cercare di fare in modo che dentro la programmazione si riassumino le priorità. Mai più ci saranno fondi a pioggia, ma solo fondi dati sulla base dell'esigenza reale dei comuni, dei territori e dei cittadini. Ce ne sono tante e per questo bisogna fare la programmazione. Grazie.